Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Fabio Volo, conduttore, scrittore, attore, eccetera, eccetera, il nostro pubblico ti conosce molto bene, buonasera Oscar Giannino, candidato premier della lista Fare per fermare il declino e buonasera Alessandro Sallusti a Milano, direttore del giornale. Allora, Sallusti oggi ha dipinto Giannino che sfida Berlusconi così, un piccolo uomo accecato dall'ambizione, dalla mania di protagonismo e dall'odio personale contro chi ha più successo. Subito pubblicità e poi dopo ci rivediamo. Alessandro Sallusti, allora lei ha scritto oggi sul giornale che dirige il giornale che quello a Giannino non è soltanto un voto inutile ma anche stupido. Perché? Ma io ho commesso un errore in quell'articolo, una dimenticanza della quale mi scuso con Oscar Giannino perché manca la parola politico, è un piccolo uomo politico, era nella mia testa, cosa che capita spesso quando dei grandi giornalisti vanno a fare un mestiere che non è il loro. Io riconosco non solo la legittimità dell'operazione di Giannino che è quella di fondare un nuovo schieramento liberale oltre quelli che già c'è e addirittura l'ho guardato con grande interesse quando è nato all'inizio e lo trovo legittimo, arricchire un'offerta politica è sempre qualcosa di buono. Ma sono rimasto deluso, offeso quando lui l'altra sera a Ballarò ha detto io godrò, sarò felice se la mia presenza farà perdere il PDL e cioè se farà perdere quello che al momento è l'unico argine vero dal punto di vista della quantità di voti che può mettere in campo e portare a casa alla sinistra dei tassatori. E allora credo che lui abbia tradito il suo spirito liberale e stia tradendo i suoi elettori perché un conto è contribuire a far vincere uno schieramento liberale, un conto è augurarsi di farlo perdere. Io questo credo che sia imperdonabile. Allora, Oscar Giannino, ha sentito? Vuole discolparsi? No, discolparsi addirittura, discolparsi con tutto il sorriso di cui sono capace? No, non credo che mi debba discolpare. Siamo nati semplicemente dicendo e abbiamo deciso di andare alle elezioni l'8 dicembre, quindi io sono fantasticamente sorpreso e molto, molto, molto felice del fatto che in Lombardia sia il capo dello schieramento di destra sia il capo di quello di sinistra Ambrosoli per una roba che ha deciso di andare alle elezioni l'8 dicembre. In 50 giorni entrambi ripetono che votare per fermare il declino sarebbe negativo perché li fa perdere. Allora, siccome noi siamo nati tutta gente della società civile, tutta gente fuori dai vecchi partiti dichiarando che questo volevamo, perché? Perché dopo 18 anni di promesse non mantenute non avevamo più fiducia e non l'abbiamo, lo devo ribadire, nel fatto che chi per 18 anni ha detto una cosa e ne ha fatto un'altra, possa improvvisamente la sesta volta essere, per così dire, beneficato dalla presenza della Madonna di Lourdes, perché la Madonna di Lourdes ha come sappia di altro affare. Allora, siccome siamo nati esattamente dicendo questo, lo stupore di Alessandro Salusti che conosco, io lo posso capire per certi versi, perché portato alle conseguenze dichiarate da Berlusconi, cioè Berlusconi che si rende conto ai 50 giorni che siamo nati, che la gente viene, che abbiamo raccolto tre volte le firme che abbiamo raccolto e però noi lo avevamo detto all'inizio, io personalmente, lo dico da un anno e mezzo, tutte le mattine in radio prima lo dicevo, io avevo detto, guardate che per chi è convinto dei miei valori, cioè più mercato, meno spesa pubblica, perché abbiamo più di metà del PIL di spesa pubblica, meno imposte, perché con queste imposte moriamo, ci vuole qualcuno che è credibile e secondo me si può non essere d'accordo, per carità. Berlusconi la credibilità per dire questo non ce l'ha più. Allora, io capisco che Alessandro dice, e vabbè, però il problema è, su cui lo invito a riflettere, che anche Ambrosoli, il capo della sinistra, dice la stessa cosa. Se non fosse così, cioè se non ci fosse un seme vero di dubbio nell'elettorato che per tanti anni ha seguito Berlusconi, il PDL non sarebbe così indietro rispetto a com'era, perché si è verificato negli anni. Negli stessi commenti, che vogliono dire poco, quindi lo riconosco ad Alessandro, che sono seguiti sul suo giornale oggi, al suo editoriale, dieci a uno erano a mio favore, ma mica perché io sono simpatico, oppure perché ho i soldi, o perché mi sono montato la testa, non mi sono mai montato la testa, ma è perché ha una vastissima parte dell'elettorato che ha seguito per tanti anni Berlusconi, da tempo, lui non appare più credibile. Giangelo, mentre Sallusti riflette, vorrei chiedere a Fabio Volo se l'avresti mai detto che Oscar Giannino avrebbe fatto così arrabbiare Berlusconi. Berlusconi o Sallusti? Entrambi, prima Berlusconi e poi Sallusti. Devo dire che la storia di Berlusconi però segna un po' questo, cioè chiunque in qualche modo si sia forse permesso di ostacolare la sua corsa, mi sembra uno che si offende facilmente, sia pure con il sorriso, poi credo che siamo un po' pronti a tutto, ma io siccome ho letto l'articolo questa mattina di Sallusti, io invece mi faccio sempre una domanda umana, ma per esempio Giannino si è offeso quando ha letto, oppure quando Sallusti ha scritto, c'è stato un momento in cui ho detto forse così lo ferisco, o a quei livelli non esiste questa attenzione? Sallusti prima e poi Giannino. Cioè a lei Sallusti non dispiace quando dice piccolo uomo, quando sa che in qualche modo sta ferendo qualcuno, ma è una curiosità stupida, non è politica ovviamente, era solo una curiosità, perché adesso poi si sono già detti che si conoscono da anni, quindi la cosa si è già un po' sistemata, io mi sarei messo a piangere per esempio. No, 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 non c'è da piangere, che sia, ripeto, mi scuso perché è piccolo uomo politico, ripeto, come spesso capita quando uno cambia destino. Sì, sì, però insomma c'erano altre cose molto più offensive. Sì, altre cose, ma che secondo me, come dire, per quello che so io ho lavorato... Le dico una, scusi Alessandro Sallusti, così giusto per completare, no? Perché lei ha scritto anche che Giannino sembra un simpatico estrione fino a che sta dentro lo schermo, ma quando è fuori, chi lo conosce lo evita. Beh, per esempio, credo che molti liberali da oggi lo evitano proprio perché si augura la fine del sogno liberale in Italia, ma a parte questo, ho detto anche che, come dire, è abbastanza megalomane, Oscar, tanto è vero che, come dire, si paragona, oggi si è paragonato a Gandhi. Ora, Gandhi è un indiano che si batteva contro l'impero inglese e gli inglesi, ma lui era un indiano che non aveva nulla a che fare col mondo con cui combatteva. Beh, Oscar ha attraversato questi 18 anni da protagonista della vita giornalistica, politica e finanziaria italiana, è stato uno dei più grandi sostenitori di Tremonti, è stato consulente e ascoltato, proprio perché è intelligente, di molti banchieri, non ha mai esternato in questi 18 anni una particolare ostilità, antipatia nei confronti di Berlusconi, ha condotto trasmissioni televisive importanti, insomma... Oscar Giannino, non è che è stranio, non è nato ieri come rivoluzionario, è uno che è stato nel sistema mani, piedi e per sua fortuna anche portafoglio, fino all'altro ieri, quindi chiamarsi fuori da quello che non è successo in questi anni, beh, potevi scriverlo prima, insomma. Oscar Giannino... Fisicamente assomiglia a Gandhi, Giannino. Fisicamente assomiglia a Gandhi, uno si è offreso e vuole replicare... No, non mi sono offeso perché conosco qual è lo stile, per così dire, e di Alessandro Lo stile della casa? Però, no, no, lo stile con cui si conducono le polemiche politiche, non è questo il punto, non è lo stile della casa Sallusti, è lo stile con cui si conducono le polemiche politiche quando c'è un punto che emerge, e il punto che emerge è che Berlusconi a rendere azione mi può perdere. Allora, io non è che penso di essere Gandhi, dico a chi dice voto inutile che persino l'impero britannico è stato fermato da uno che ha iniziato da solo, non è che io sono Gandhi. Il problema è che lo rispingo come argomento che bisogna dare i voti solo a chi c'è da 18 anni ed è grande, se no non ci liberavamo del Duce come la Spagna con Franco per molti decenni, quindi non è questo il punto. Figuratevi se io penso di essere Matt. Quanto può essere nel sistema, forse è meglio ricordare a chi giustamente a casa non lo sa, che quando io ero conduttore di una televisione su Rai 1, a levarmi senza che io abbia fatto mai la vittima, perché non credo che si facciano le vittime, fu l'allora Presidente del Consiglio che era Silvio Berlusconi e vabbè, perché io andavo in diretta a dire che volevo il taglio delle tasse e lui in persona ridendo mi disse vuole il taglio delle tasse più di me, sì devo ammettere non ho cambiato idea da questo punto di vista. Dopodiché tante aziende editoriali mi hanno indicato, proprio per come scrivo di Economia e Finanza, talvolta la porta. È capitato anche a Libero, io avevo un contratto per fare un giornale economico finanziario, poi si discusse perché io interpretavo il contratto che volevo farlo un po' per i fatti miei, perché così c'era scritto, e poi mi è stato combinato un licenziamento disciplinare, lo sa all'usti, lo sa benissimo, in tribunale naturalmente è finita in maniera diversa, quindi siccome chi mi ha ascoltato sa da tempo qual è la mia opinione sul fatto che per essere liberali bisogna essere credibili nei fatti, quale sistema, quale topo nel formaggio, ma di che cosa stiamo parlando? E comunque in ogni caso, io su questo livello, ci sorrido sopra perché non mi ci trascini Alessandro, per il semplice fatto che tanti pensano davvero che Berlusconi, ma dico, infatti non l'ho detto, però sai qual è la vicenda, quindi figuriamoci, non vado su questo tema, ma io so qual è la vicenda che io non c'ero peraltro quando c'è una vita che parla chiaro, come c'è una vita che parla chiaro, è stato chiuso perché i conti non tornavano, per cui spero che i conti dell'Italia li fanno tornare meglio di come hai fatto tornare i conti di libero mercato, ma di questo secondo me, tant'è che poi, siccome per questo il tribunale ho vinto, ma non è questo il problema, il problema che c'è una posizione che dice, cari amici, un po' di elettori del Berlusconi dicono e pensano che non sia più credibile. Ecco, allora io vorrei chiedere a Sallusti, Sallusti, le posso chiedere una cosa? Sallusti, le posso chiedere una cosa? Giannino, aspetti un attimo, i voti non sono suoi, non se li è comprati, ha detto mi sottrai, ma che ti sottraggo? Mica te li sei comprati, benedetto Silvio. No, ma io non mi occupo di quello. Posso chiederle una cosa, Sallusti, siccome lei sostiene che per un'Italia più libera e più moderna serve Berlusconi, in diciamo dieci anni in cui ha governato Berlusconi in che cosa l'Italia è diventata più libera e più moderna? Guardi, è vero che Berlusconi, credo in parte per colpe sue delle sue coalizioni, non è riuscito a mantenere le promesse che aveva fatto fino in fondo e non tutte, ma è anche vero il contrario, cosa sulla quale io conto, che continui così, che non ha mai fatto l'incontrario di quello che ha detto. Cioè uno che promette di non mettere tasse, lui fino all'ultimo, fino a un mese prima di andare via, insomma, come mossa disperata e ultima, non ha fatto nessuna manovra per peggiorare la nostra situazione. In questo senso la promessa liberale di 18 anni fa è ancora in piedi e incompiuta e mi sarebbe piaciuto che Giannino con la sua competenza si fosse alleato e avesse collaborato nella sua autonomia. Ma io non so, non faccio il politico, io guardo il panorama politico e ci sono due schieramenti che adesso, in queste ore, in queste proprie ore, sull'onda di quello che dice Berlusconi, fanno delle timide aperture per quanto riguarda le cose che interessano ai cittadini, in particolar modo le tasse. Ma io sono di fronte a due schieramenti che mi dicono ancora sacrifici, ancora rigore, ancora tasse e uno schieramento che mi dice, guarda, io ti libero da tutto questo perché questa è la strada. Beh, se permette, io mi appoggio al terzo. I primi due a me non piacciono, l'idea di continuare a pagare tasse per poi fare contenta la Germania. Come si direbbe sfonda una porta aperta, no? Ma anche Giannino la pensa come me, sa? Guardi che Giannino la pensa come me, per questo dico che è una questione personale quella che l'abbiamo pensata tutti così, poi dopo non arrivano i tecnici che ci mettono il triplo delle tasse. Significa che devi scrivere un editoriale in cui Berlusconi, siccome ha alzato la spesa e ha dovuto rincorrere le tasse, se la pensi come me, ti do appuntamento, scrivi un bel editoriale su quanta spesa pubblica in più abbiamo avuto negli anni di governo del centrodestra per cui abbiamo dovuto alzare le tasse. E io a quel punto ti dico che la pensiamo allo stesso modo. Siccome l'ho constatato negli anni, e lo sai perfettamente, dopo un bel po' di anni in cui la spesa pubblica sale, mentre l'euro ci regalava molte centinaia di miliardi di euro. Tu hai scritto dei meravigliosi articoli a favore di Tremonti, per almeno tre o quattro anni sei stato il più grande sostenitore di Tremonti. E alla fine, quando invece la spesa pubblica sale di uno delle tasse... Ma rispondemi se è vero che sei stato il più grande sostenitore di Tremonti. No, io ti rispondo dicendo che quando Tremonti ha iniziato a sottoscrivere i decreti in cui si sono girati le vite sui sequestri, ganasce alle macchine, pignoramenti di prima casa nel contenzioso tributario, era già da tempo che dicevo non se ne può più. Quindi caro mio, i dati economici dicono che nel tempo chi analizza i numeri non lo fa caro mio perché ha un seggio che lo aspetta, perché io come sai non ce l'ho il seggio che mi aspetta. Penso semplicemente che da tempo si matura il momento per chi ha idee di mercato e anche di giustizia sociale, tenti di costruire mettendo a rischio quel poco che ho o quel poco di più che ho, dicendo adesso basta dopo 18 anni, a destra come a sinistra. Se tu pensi che uno debba dire Berlusconi a vita, sei libero di pensarlo, ma Berlusconi per quello che mi riguarda, la credibilità per farsi credere in quello che dice da tempo non ce l'ha più e mi batterò per il tempo. I sondaggi vedremo alla fine quanta sorpresa di elezione, di voto, di protesta vero ci sarà e l'illusione di credere ancora una volta che dopo 18 anni chi ha fatto il contrario sia la bandiera del liberalismo italiano in Europa, secondo me vedrai che il giorno dopo non certo e tu stai con Bersani e Vendola, stai con Bersani e Vendola e siamo tutti contenti. Con Bersani, caro mio, è lo schema limitato che pensa di giustificare i difetti dell'uno con i difetti dell'altro, capisci? Tu fai lo schema Santoro, con una mano picchi e con l'altra gli dai una mano. Siccome è 18 anni che lo vedo, è una piccola trappoletta, funziona per molte volte, dopodiché cosa vogliamo parlare? Dei voti per la riforma della giustizia? L'hai vista tu la riforma della giustizia? Io non l'ho vista la riforma della giustizia, ho visto più spesa, più tasse, più debito. Siccome sono 18 anni, sai qual è il mio rammarico? Di non averci pensato prima, perché 18 anni, se hai una moglie che tradisci per 18 anni, nessuna moglie ti sopporta, figuriamoci un elettore liberale, poi saremo pochi, saremo tanti, lo vedremo il giorno dopo, vedremo il giorno dopo, tutto qua. Io rispetto il punto di vista diverso di chi dice Berlusconi per la vita. Io le vita ne ho una, ed è ancora breve, e dico basta. Allora, intanto, adesso poi vi faccio vedere invece cosa dicono i sondaggi, ma vorrei prima, siccome Fabio Volo sembri essere anche abbastanza divertito dal dibattito, vorrei chiederti, stiamo vedendo qualcosa di nuovo in questa campagna elettorale? Ti aspettavi qualcosa di diverso? No, devo dire che per quanto mi riguarda, personalmente è la prima che mi appassiona meno, ma credo che sia forse un problema mio, c'è un qualcosa che non mi convince, non lo so, delle cose. Volevo, approfitto del fatto che sono qua, che io sono qui per farti un po' compagnie per vedermi questo incontro dal vivo, volevo sapere se un politico, e quindi probabilmente lo devo chiedere a Giannino, se non ha il desiderio a volte di parlare di qualcosa che va dal di là sempre di questo giochino delle tasse del limu, cioè nel senso noi in campagna elettorale abbiamo sempre, almeno io da elettore, un politico che si rivolge a me come un bambino, che mi dicono non ti faccio pagare questo, non ti faccio pagare e mi piacerebbe invece riuscire a capire se si può parlare di qualcos'altro che di conseguenza ridurrà poi le tasse. Prima di darti la parola voglio invece darvi una notizia che riguarda direttamente anche noi della Sette, sapete che oggi c'è stato l'atteso Consiglio di Amministrazione di Telecom per decidere, tra le altre cose, anche della vendita della Sette. Tutto rinviato, ci sono state sette ore di consiglio e dice Tarak Ben Ammar al termine dell'incontro che non nemmeno ha esaminato il dossier della Sette, quindi per il momento è tutto rinviato a un altro Consiglio di Amministrazione e poi vedremo. Allora, Oscar Giannino, scusa ma dovevo dare questa notizia diciamo di casa nostra anche perché è una notizia che interessa il resto dell'Italia. Il punto, scusami, è che lo trovo anche un po' frustrante che si parli sempre solo di quello, capisco che in molte famiglie sia il problema principale ma proprio per questo che invece bisognerebbe forse avere il coraggio di andare oltre. Sì, oggi posso dire una cosa, non so se svelo una cosa troppo personale, Oscar Giannino, ma insomma ho parlato con una persona che la conosce e che ha detto sì, è un peccato che Oscar Giannino parli sempre di numeri, di economia, di tasse, perché in realtà è una persona che fa un sacco di altre cose come per esempio assistere ai malati terminali. Lo potevo dire? Purtroppo questo tempo non più perché l'ho fatto soprattutto quando stavo a Roma e adesso sto un po' meglio e tento di farlo, però a Milano è un po' più complicato, però è vero, è sicuramente il capitolo che mi ha dato di più nella vita privata prima di poi incontrare mia moglie, questo è però un po' colpo basso perché io di queste cose tento di parlare in modo possibile. Non so, lei è molto discreto, però insomma lei fa anche molto volontariato e si occupa molto anche di altre cose. Non c'è niente di meritorio e non voglio apparire in pubblico. Siccome mi è capitato a lungo di avere una vita complicata per via del male, io lì ho tentato di rendermi utile e sicuramente ho incontrato persone che mi hanno molto dato una mano a capire cose che nella presunzione dei numeri eccetera eccetera o della professione credevo di capire, invece poi ho visto le cose diversamente. La stessa cosa riguarda il fatto di non avere voluto e potuto per questa cosa, per esempio avere figli per lunghi anni e adesso invece ci provo e così via. Sì, sì, no, non volevo ovviamente essere. È vero che in questo ha ragione Fabio Volo e bisogna parlare molto di più della condizione in cui versa un terzo delle famiglie italiane, che è la condizione di record del secondo dopoguerra di dover mettere in mano ai risparmi perché il reddito scende, oppure delle vere vittime di questa crisi, cioè giovane donne sulle quali abbiamo riversato un sistema di lavoro, di leggi, di fisco e contributi che li fanno partecipare molto meno all'elementare condizione di vita dignitosa, di avere qualche centinaio di euro in tasca per poter campare almeno ai minimi della dignità e invece non è così. Del fatto che ci avviamo una società piena di anziani, disabili, di malati cronici di fronte ai quali lo Stato non è organizzato per dare una risposta e per questo secondo me bisognerebbe davvero dare una mano potente al volontariato perché ci sono 7 milioni di italiani che invece la danno e non la danno per i denari e non la danno perché non credono nello Stato ma sanno che si devono tirare sulle maniche e dare una mano a chi sta peggio perché anche quello è capitale sociale, è coesione. Questa è una anche delle ragioni per le quali fino a questo momento non abbiamo visto la gente nelle piazze fare scene come in Spagna e come in Grecia, anche se però la perdita di impresa e di lavoro è durissima. Quindi da questo punto di vista ho il massimo rispetto per quello che dice, bisognerebbe davvero che tutti facessimo il meno teatro possibile, però io sul teatro ci vado al meno possibile. Allora adesso vorrei, Salusti, vorrei farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro perché come sapete da... Forse è solo una cosa velocissima, anche guarda che anche così lo dico per il pubblico, anche il leader dell'altro schieramento liberale, quello guidato di Berlusconi, è una persona che sta costruendo in giro per il mondo a sue spese ospedali per curare i bambini poveri e malati. Per cui non è che la solidarietà o certe cose accadono solo da una parte e non dall'altra. No, ma certamente, io lo intendevo dire perché molti si dicono e si chiedono, insomma, Oscar Giannino parla sempre tanto di numeri, poi in realtà ha tutta un'altra vita fatta appunto anche di tanto volontariato, ma volevo invece farvi vedere il sondaggio che Demopolis ha fatto per noi, che sarà l'ultimo sondaggio, diciamo, di questa campagna elettorale perché da mezzanotte di domani non si potranno più dare i risultati dei sondaggi. Quindi guardiamo cosa ci dice questa ultima fotografia sulle intenzioni di voto degli italiani. La premessa è che a 16 giorni dalle elezioni il tasso di astensionismo e di indecisione resta alto. Se si votasse oggi potrebbero restare a casa circa 11 milioni e mezzo di italiani, cioè il 24% degli aventi diritto. Rilevante è anche il numero degli indecisi che sono oltre 7 milioni. Il 47% dei cittadini orienterà la sua scelta prevalentemente sul candidato premier o sul leader della coalizione. Poco più di un terzo sceglierà il partito, meno di un elettore su cinque deciderà il suo voto in base ai candidati in lista per la Camera o il Senato. E questo sostanziale disinteresse per i candidati è una delle conseguenze del Porcellum. A dare il segno dell'instabilità del mercato elettorale è anche il numero di quanti ammettono che nei prossimi giorni potrebbero cambiare idea. Oltre un quinto degli elettori prende in considerazione più di una lista. E veniamo alle intenzioni di voto. Secondo Demopolis oggi il centro-sinistra si attesta al 33,6%, il centro-destra al 28,5%. Lo scarto è dunque di oltre 5 punti. Il divario aumenta leggermente se si considera il bacino potenziale dei due schieramenti, che raggiunge il 40% per la coalizione di Bersani e il 34% per quella di Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle di Grillo oggi supererebbe il 18%, con un consenso in crescita di circa 3 punti nelle ultime due settimane. In lieve flessione la coalizione di Mario Monti, stimata al 3,16%, e Rivoluzione Civile di Ingroia al 4,1%. All'1,4% con un potenziale del 3%, la lista di Oscar Giannino. L'attuale vantaggio garantirebbe a Bersani la maggioranza alla Camera. Secondo la simulazione effettuata dall'Istituto diretto da Pietrovento, il centro-sinistra conquisterebbe 340 seggi, 128 deputati andrebbero al centro-destra, 80 al Movimento 5 Stelle, 64 all'area Monti. 18 seggi infine a Rivoluzione Civile, un dato ovviamente vincolato al superamento della soglia del 4%. Per quanto riguarda invece il Senato, l'esito si giocherà sui premi di maggioranza regionali. In Lombardia e in Sicilia, le due regioni maggiormente incerte, Demopolis registra una situazione di sostanziale parità. Circa un punto di vantaggio per Bersani in Sicilia, con Grillo non molto distante, e un punto di vantaggio a favore del centro-destra in Lombardia. Potrebbero essere poche migliaia di voti a determinare il risultato a Palazzo Madama. Alessandro Sallusti, da questi e anche da altri sondaggi la vittoria di Berlusconi sembra molto improbabile. Stanno per arrivare nuove promesse shock da parte di Berlusconi? Ma così si dice, però se sono soccanti come quelle che ha fatto, no, non ho più po' di idea. So che, e leggo anch'io, che potrebbero essere in arrivo nuove promesse, nuovi impegni più che promesse, chiamerei. Perché quando lui dice, io non ne dubito, perché l'ha già fatto un po' di anni fa Colici, che al primo Consiglio dei Ministri toglie l'Imo e ci restituisce i soldi, io immagino che lo faccia fino a prova contraria. E questa è una cosa che dovrebbe far piacere al nostro amico Giannino. Però i sondaggi, ce ne sono altri che danno questa forbice molto più ravvicinata, altri ancora che la danno più larga. Io credo che di tutto quello che abbiamo visto, dei sondaggi, la cosa vera, non perché il resto sia falso, ma perché i sondaggi evidentemente non riescono, essendo così distanti tra loro, vuol dire che non riescono a intercettare la verità, è che la partita sarà decisa da quel 30% di persone che ancora non è scesa in campo. E questo potrà sportare in maniera significativa questa distanza e quindi il risultato. Io credo che ormai quelli assegnati ci sono. Adesso il problema è convincere quelli che ancora non hanno scelto, non hanno capito. Certo. Senta Giannino, intanto lei sembra avere poche possibilità di portare qualcuno dei suoi in Parlamento. E poi, siccome appunto proprio per accapparrarsi il voto dei tanti indecisi, diciamo che un po' tutti i politici sono tentati da facili promesse. Per esempio Berlusconi oggi ha promesso 4 milioni di posti di lavoro per i giovani, poi però si è dovuto in qualche modo correggere e ha spiegato che no, che in realtà era una speranza quella che lui stava esprimendo e ha detto che è un modo per arrampicarsi sugli specchi per cercare di trovare un lavoro a quei 3 milioni di disoccupati. Lei come si arrampica sugli specchi, su questo tema, su questo fronte? No, guardi, io di arrampicami sugli specchi di coperture che non esistono per denari pubblici gratis, guardi che c'è Berlusconi, ma poi c'è Grillo, c'è Ingroia, è una gara a chi le dice più. Adesso io sono molto contento per questo programmino che con ottimi economisti italiani che sono in Italia e all'estero, che abbiamo scritto mesi fa, un po' di spostamento per esempio verso la cessione di beni dello Stato, che è la cosa senza la quale noi non abbattiamo il debito e non stagliano le tasse, la fanno un po' tutti. Bene, quindi anche lì serviamo a qualche cosa. Non ci sono più beni? No, nessuna promessa. Dice Sallusti che non ci sono più beni? Allora, se non ci sono più beni, per abbattere il debito bisogna continuare a tenere alte le tasse, quindi a quel punto siamo finiti. Invece i beni ci sono da cedere dello Stato. Detto questo, promesse zero, perché non farò promesse del tipo di tagliare i baffi o tagliare la barba come Berlusconi tanti anni fa mi diceva, perché naturalmente lui considera quelli con la barba i baffi dei pericolosi, quanto poi, Lillia, il fatto che noi non ce la faremo, tu conosci la famosa canzoncina che cantavo quando ero piccolo, a mia madre non piaceva che noi siamo piccoli ma cresceremo e a quel momento ce la faremo. Ecco, siccome c'è più di un terzo degli italiani, io credo che alla fine vedrete che la sorpresa sarà un Parlamento pieno di eletti fuori dai vecchi partiti. Li voglio vedere a scegliere il capo dello Stato quando avranno Camera e Senato pieni di gente eletti fuori dai partiti. Penso che ci debbano riflettere prima di spararle grosse in queste ultime settimane. Più le sparano grosse, più danno una mano a me e chiesti fuori dai partiti per raccogliere il voto di chi si è scocciato legittimamente. Dopo 18 anni, di vedere destra e sinistra che hanno fatto più pese e più tasse e di vedere una destra che ti fa che in Germania vinca l'estrema sinistra. Questo, guardi, più di Fassina addirittura. È un altro paradosso italiano che tutti quanti, quelli della destra berlusconiana si augurano che in Germania vinca il partito del debito buono per tutti. Ma perché? Niente perché voglio polemizzare, ma perché questi paradossi li viviamo da 20 anni e forse il caso è che all'inizio in pochi, magari più di quanto sospettiate, aprino gli occhi e scelgano di votare con le mani prima di votare con i piedi. Senti Fabio, forse finora la proposta più scioccante è Grillo e il suo movimento, che non a caso vengono dati con un potenziale anche nel nostro sondaggio altissimo, oltre il 20%. Ti piace Grillo? Mi piace Grillo, io sono sempre per i toni, io sono sempre rimasto così, non ho più visto ridere da quando faceva il comico, ovviamente non c'è niente da ridere, ma quello che cercavo anche di dire prima sul discorso delle tasse, mi sembra che il modo in cui si criticano sempre i politici, io credo invece che sia sempre responsabilità di tutti, che nessuno deve avere la presunzione di entrare nell'acqua e non bagnarsi, quindi anche l'elettorato, quello che io mi chiedo e che volevo chiedere prima a un politico è sempre questo, cioè il modo in cui si parla l'elettorato, da sempre l'idea che l'elettorato sia un po' infantile, sia sempre legato appunto a quella cosa di piccolo del momento che può essere la tassa o l'IMU, ma non c'è mai una prospettiva, ma anche uno spirito che possa muovere veramente una rigenerazione più che una nuova generazione e io è quello un po' che aspetto, io sono tra quelli indecisi, l'ho detto, è il primo anno che sono indeciso a votare, ho rinviato un viaggio che dovevo fare di lavoro perché voglio votare, però io sono di quelli indecisi perché non ho ancora trovato una persona che riesca non a dirmi una cosa per convincermi, ma a dirmi una cosa che mi renda, come dire, anche partecipe di un rischio che io mi voglia prendere per un qualcosa di più grande, altrimenti siamo sempre qui un po' sempre a tagliuzzare quella piccola torta che sta fine, non chiedere allo Stato cosa fa per te, ma cosa tu puoi fare per lo Stato, però insomma un qualcosa dove io possa essere partecipe e non sempre in qualche modo partecipe perché faccio una X e in cambio non mi ridai l'IMU, a me capisco che in alcune famiglie sia importante, però è anche vero che questo discorso esiste perché per tanti anni si è fatto solo quel tipo di politica lì, cioè quella ruffiana io la chiamerei. Grazie a tutti.